Già sei anni fa, quando il presidente era Massimiliano Salini e l'opposizione era guidata da Giuseppe Torchio, decine di dipendenti dell'amministrazione provinciale chiedevano verbalmente il trasferimento in mobilità verso aziende private o altri enti pubblici. Allora i dipendenti erano 400, oggi, dopo un'interminabile serie di taglia al finanziamenti e una riforma abortita come la legge del Rio, ne sono rimasti 304. Lo stesso Massimiliano Salini ipotizzava un futuro d'efficienza e leggerezza dell'ente con soli 100 dipendenti. La situazione, affrontata dal presidente Davide Viola, che ieri ha incontrato il personale e i rappresentanti sindacali, è molto più grave. Il termine del 30 giugno, scadenza per la presentazione del bilancio, si avvicina ma le risorse del governo sono tutt'altro che certe, mentre Corso Vittorio Emanuele II patisce un deficit di diversi milioni, mentre le funzioni cui deve adempere l'istituzione restano. Le norme cambiano continuamente e programmare diventa praticamente impossibile. Oltretutto, come spiega Davide Viola, il governo trova risorse per altre cose e non per le province, manifestando così una volontà che sembra chiara, mentre dall'ente, stretto da obblighi e mancanza di fonti, si aggrava. Solo l'agricoltura, infatti, è stata trasferita alla regione. Malgrado un accordo con la regione e l'ANAS per la cessione di 240 chilometri di strade provinciali, ne restano altri 640 da manutenere senza che vi siano soldi sufficienti. In dubbio anche i lavori di manutenzione delle scuole superiori. Dai 304 dipendenti attuali, 148 sono dedicati a funzioni fondamentali, 36 nel settore ambiente, 83 nella viabilità, 14 al territorio dei trasporti, 1 per la rete scolastica, 14 per il patrimonio, 13 agenti di polizia locale, 55 impegnati sul mercato del lavoro, altri 69 in funzioni amministrative trasversali e 19 in funzioni delegate. La crisi della provincia di Cremona non è un'eccezione. In Italia il deficit complessivo delle province è infatti di ben 650 milioni di euro. Per il personale, poi, l'incertezza si fa difficilmente sostenibile.